Ilona era già stata in Italia nel 2004 come turista, ora vi è tornata sì, ma da profuga con sua figlia per sfuggire alla guerra in Ucraina. Come lei, altri connazionali sono ospitati nel centro Bellini, dell'oasi del lago di Penne messo a disposizione dal comune. La metà di questi cittadini ha scelto di restare qui, l'altra si è ricongiunta alle famiglie già presenti in Abruzzo. A Penne la macchina della solidarietà si è messa in moto, ci dice il sindaco Gilberto Petrucci. È stata una macchina dell'accoglienza straordinaria, molte associazioni ma anche singoli cittadini si sono attivati per accogliere i profughi che sono arrivati qui a Penne al centro di educazione ambientale Bellini. Un centro che si sta davvero riempendo proprio per abbracciare questa popolazione che viene da una tragedia umanitaria. Quanti posti sono? Abbiamo a disposizione 40 posti e sono prevalentemente donne con bambini. Sono arrivati ieri sera, quindi siamo stati noi che abbiamo organizzato il trasporto frutto di una convenzione stipulata con la prefettura di Pescara, la prima nella provincia di Pescara e quindi stiamo iniziando questa corsa alla solidarietà. Solidarietà immagino anche da tutti i cittadini di Penne. Tanti cittadini mi hanno chiamato, tutti vogliono contribuire e soprattutto rendere più accogliente questa insomma per loro spero provvisoria sistemazione perché già ieri quando li ho incontrati ho visto nei loro occhi tanta sofferenza. Damiano è una delle persone che gestisce assieme ad altre cooperative di questo centro. ieri sono arrivati i primi profughi, anzi profughi e bambini perché sappiamo che gli uomini restano in Ucraina a combattere. Come è andata la prima notte ti chiedo? Allora la prima notte è passata abbastanza tranquilla. Voglio segnalare invece che c'è una risposta enorme da parte del territorio e della cittadinanza per supportare questa iniziativa sociale qui nella collina di Collasto. Ilona dice che sta bene qui perché le ricorda un po' la terra ucraina. Quanto alla sua città ci dice Natalia, referente e mediatrice culturale dei profughi ucraini. Immaginate che per esempio qua siamo a casa nostra e a un chilometro stanno sparando e tu vedi tutto questo scempio, gli spari, il fuoco, gli incendi, le bombe, un rumore che ti prende proprio la testa. E che ti ha detto? Daria. Lei è Daria, suo marito e suo padre sono rimasti in Ucraina. Il fratello più piccolo di 19 anni sta sotto le armi. Sempre grazie a Natalia ci racconta che la sua città... Chmielnitsk. E nella sua città ci sono moltissimi da Kiev, da Kharkiv, da... Da Kharkiv, da altri... Ci sono una città che ospetta tantissimi sfolati da tutta Ucraina. Ci sono tantissimi aiuti umanitari che vengono distribuiti là, in una città che c'è parecchi magazzini. Your heart is... Le chiediamo se il suo cuore sia rimasto in Ucraina. Certo, che l'anima mia è là, la preoccupazione di quello che succederà, di un futuro incerto. Tu vuoi tornare in Ucraina? Io voglio la mia famiglia. Tornare dalla tua famiglia. Tornare, sì. E me le grazie. Diacuio. Diacuio. Grazie.